Embargo è termine di origine portoghese che significa in fin dei conti stare nella barca. Ci sono le notizie che hanno un embargo fino alla tale data, quindi non possono essere emesse fino ad allora. Ci sono dei paesi che hanno un embargo sul fatto che non si permette di scaricare merci, di importare prodotti, eccetera. C'è un embargo punitivo nei confronti di… cioè le barche non possono andare lì a scaricare. Deriva da quando le navi potevano entrare sì nel porto, ma non potevano scaricare né ciò che avevano a bordo, né tantomeno l'equipaggio poteva scendere a terra dovevano starsene sulla barca. Embargo da questo senso.